Carissimi amici, bentornati in un nuovo appassionante video insieme al vostro Marco su MV Hardware perché nonostante l'abbiamo viste di tutti i colori le configurazioni in questi mesi, ne abbiamo fatte veramente cotte di crude e nonostante siamo in un periodo pre-lancio dove a breve vedremo nuovi processori di fascia alta sia Intel che AMD in realtà l'abbiamo sempre detto anche nei commenti ultimamente che abbiamo attualmente tutto l'hardware che vogliamo per fare delle buone build di fascia medio-medio-bassa quindi sotto una determinata soglia di prezzo, in questo caso noi vedremo una build di circa 729€ che vi permette tranquillamente di giocare e di fare qualsiasi cosa in full HD con delle ottime performance Prima di iniziare ovviamente vi ricordo come in ogni video di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto fatelo che cosa state aspettando siete tantissimi che venite a vedere i miei video ma sempre molti di voi non si iscrivono non capisco il perché, in ogni caso se volete sostenere questo canale e non volete perdervi i prossimi video ragazzi mi raccomando lasciate l'iscrizione e magari lasciate anche un bel like o un commento che sicuramente vi rispondo sotto a tutti quanti Partiamo da quello che è il processore che senza dubbio, proprio senza dubbio è il 12100F che su questa fascia di prezzo a mio avviso è uno delle migliori CPU da tenere in considerazione nonostante, noi l'abbiamo già visto in un video, questo processore alla fine ha delle performance in gaming molto vicine a quelli che erano i 10400F giù di lì molte persone sono indecise se andare su un 12100F o su un Ryzen 5500 ovviamente il mio consiglio è quello di preferire Intel tutta la vita per una serie di motivi innanzitutto il 12100F in single core va meglio anche se di poco su molti giochi come possono essere i giochi competitivi Fortnite, Warzone e cose del genere il 12100F su architettura, ok? Intel di dodicesima generazione mantiene un piccolo vantaggio che comunque è un'ottima cosa voglio dire poi ha il supporto alla PCI 4.0 che invece il 5500 non ha quindi se voi un domani volete mettere un NVMe 4.0 col 12100F lo potete fare se voi utilizzate schede video ad esempio con 8 PCI Lane evitare di perdere anche se di poco performance quindi voglio dire è una piattaforma più nuova rispetto a quello che il Ryzen 5500 che è un'architettura Zezanne quindi è un 5600G senza grafica integrata anche scarso a livello di cache e quindi voglio dire risparmiereste qualcosina forse al punto di vista della scheda madre e cose varie ma alla fine non è che vi porto tutto sto giocamento se volete fare un upgrade su Intel alla tredicesima generazione lo potete fare e ne parleremo perché un 12100F consuma 50 watt un 13400 che è un futuro i5 di tredicesima generazione magari ne andrà a consumare 75 ma voglio dire sarà sempre un processore che potrete considerare per un upgrade su AM4 ormai gli upgrade sono abbastanza limitati se non si considera sempre e solo comunque il Ryzen 5000 quindi con un 5500 potreste fare un upgrade ad un 5700X o cose del genere ma non so quanto questa cosa vi conviene lato scheda madre io ho preso una Asus Prime H610M perché le H610 vengono un po' distrattate vengono un po' considerate delle schede inutili quando in realtà su una CPU da 50 watt un H610 vi permette di avere qualsiasi future e qualsiasi cosa di necessario stiamo comunque parlando di un computer economico quindi da qualche parte dobbiamo risparmiare è inutile andarsi a prendere la B660M a D4 sempre la stessa faccia perché è uguale e identica a questa cambia solo il chipset quindi a sto punto sti 20 euro ve li risparmiate ma se avete qualche cosa in più un 20 euro in più da spendere ci sarebbe l'Asrock B660M la Pro RS che già è una scheda madre di livello leggermente superiore è una B660 il prezzo comunque non è proprio esagerato 132 euro voglio dire con questi 25 euro in più potreste investire qualcosa sulla scheda madre ma l'H610 va tranquillamente bene con un 12100F e in futuro ci mettete anche un 13500M senza problemi lato RAM anche in questo caso ci andiamo a prendere due banchi di RAM a 3200MHz CL16 che sono abbastanza economiche parliamo delle Natec Shadow le Natec non sono delle RAM molto conosciute in realtà sono delle RAM buone a livello di performance montano dei chip che sono dei chip Samsung non hanno nessun tipo di grosso problema e se dobbiamo considerare un paio diciamo un kit di RAM economico ovviamente lo potete prendere in considerazione se anche in questo caso avete qualche euro in più da poter spendere potete andare su qualche kit un po' più costoso ma alla fine a livello di qualità e di performance siamo a livello delle Corsair Vagents quindi andando a vedere i datasheet pure di questi modelli di Shadow di Natec cambia poco e niente quindi hanno anche l'XMP 2.0 voglio dire le potete comprare tranquillamente senza problemi SSD dobbiamo stringere un po' la cinghia e andandoci a vedere un po' quelli che sono gli SSD che potreste prendere c'è il Silicon Power a 46€ quindi un ottimo prezzo che è ovviamente un SSD NVMe di generazione 3 ma che comunque vi permette di avere delle velocità di lettura e scrittura di tutto rispetto oltre i 2000 in lettura oltre i 1600 MB al secondo in scrittura quindi qualcosa in più rispetto ai classici SSD SATA con un prezzo anche inferiore i Silicon Power anche in questo caso sono dei componenti diciamo di fascia più economica ma non significa che sono componenti scadenti sicuramente la componente che più ci interessa è la scheda video che non può che essere la RX 6600 perché a 300€ è l'unica alternativa ragazzi decente che potete comprare per giocare in full HD schede video usate l'abbiamo vista la 1660 Super siamo intorno alle 200€ se siete fortunati ma tra le 200 e le 300€ non conviene comprare nessuna scheda video usata perché se voi andate a prendere una 1080 Ti una 5600 XT le pagate 250-260€ quando in realtà a 304€ vi portate a casa la 6600 che è un'ottima scheda video e non potete acquistare diciamo scheda video migliore secondo me su questa fascia di prezzo soprattutto perché parliamo di un PC economico andarci a mettere schede video stratosferiche non vi conviene quindi tranquillamente la potete acquistare come alimentatore ci basta un 500W che sia un 500W decente in questo caso abbiamo l'MV il Master Watt Elite da 500W V2 che è comunque un alimentatore DC to DC vi porta una qualità a livello diciamo di corrente decente non è il miglior alimentatore del mondo ma con 500W ci state dentro tranquillamente anche se un giorno volete fare un piccolo upgrade al processore ok mentre come case io vi consiglio di tenere d'occhio i techware sulla fascia dei case economici sotto le 50€ perché ad esempio in questo caso il Nexus M che costa 39€ è un case micro ATX ovviamente ma che vi arriva già con tre vendole preinstallate questo è il modello senza il mesh davanti ma se voi volete 10€ in più non 50€ non 30€ se voi volete con 10€ in più vi andate a prendere il modello tutto meshato che sarebbe questo qua il techware forge M2 che ha tra l'altro anche tre vendole a RGB preinstallate io ovviamente vi lascio tutto in descrizione e il totale alla fine della fiera noi andiamo a spendere 729€ per avere comunque un PC di tutto rispetto che vi fa giocare tranquillamente in 1080p con le varie modifiche ovviamente potreste aumentare salire di prezzo a seconda di qualche modifica che potete fare raga meglio di questo secondo me non potete fare e soprattutto non conviene per 20-30€ di risparmio andare su ad esempio piattaforme B450 situazioni del genere con roba più vecchia perché secondo me vi precludete in qualche modo la possibilità poi di poter fare anche qualche piccolo upgrade da qui a 6 mesi un anno ok per potervi diciamo assicurare un po' di performance superiori nel medio e lungo termine quindi evitate di andarvi a prendere roba vecchia evitate di andarvi a prendere schede video inferiore alla 6600 perché con la 6600 a 300€ veramente non ha senso e tutt'al più potreste valutare in questo caso l'acquisto ad esempio di una CPU superiore come potrebbe essere un 12400 un futuro 13400 ok queste sono a mio avviso le componenti base da tenere d'occhio io più di questo non so che cosa farvi vedere a livello di computer e a livello di fascia di prezzo più basso cioè sotto secondo me non ha senso proprio andare fatemi sapere voi che cosa ne pensate giù nei commenti soprattutto scrivetemi iscrivetevi al canale e noi come sempre ci vediamo in un prossimo video ciao ragazzi